Chiarite molto bene che il sistema della guerra è la sanità, il sistema della guerra è la scuola, il sistema della guerra è il lavoro, il modo con cui trattiamo i giovani, quindi fate vedere un sistema della guerra che è sotto la superficie, che è qualcosa che le persone normalmente non vedono, cioè quando si parla di guerra la gente crede alla guerra militare, quella è la minima parte, l'ultima quella che si vede, ma la guerra c'è nelle famiglie, c'è tra le persone, all'interno delle persone, quindi questo messaggio a mio avviso è di una chiarezza estrema, Chiaro richiede uditori aperti, se no non capiscono di cosa si parla. Mauro Scardovelli, intanto ben trovato e grazie di essere qui con noi. Grazie a te, grazie al Movimento Darsi Pace, grazie. Mauro, io intanto prima di iniziare a parlare di questo nostro progetto della Carta della Nuova Umanità, che poi vorrei appunto sentire anche da te qual è secondo te la novità di questo progetto, però prima vorrei chiederti come hai conosciuto Marco Guzzi, quando è stata la prima volta che vi siete incontrati? Sì, è stato un po' di anni fa, credo di averlo cercato a telefono e lui mi ha risposto, cosa inverosimile, perché è difficile trovare qualcuno che… E abbiamo parlato e ho potuto constatare che nonostante fosse Marco Guzzi, c'è una persona di altissimo profilo culturale, come non ne avevo mai visto, era molto amichevole, si riusciva a parlare con molta facilità, capace di ascoltare, capire tutto quello che gli dicevo e quindi per me è iniziato subito un grande interesse per lui. C'è stato solo un problema che era l'audio, perché allora Marco aveva un microfono veramente scadente, per cui io percepivo, su quattro parole ne percepivo tre, quindi facevo gran fatica. Ma a parte questo, poi dopo, come sai, c'è stato un inizio di incontri dal vivo, abbiamo fatto tante cose insieme, io sentivo nei suoi confronti proprio un'enorme stima e poi tutto quello che lui diceva per me risuonava perfettamente, quindi è stata una grande amicizia, una grande fratellanza. Sì, io mi ricordo a Milano, era il 2015 se non sbaglio, che ci fu un evento grandissimo che faceste insieme, dove vennero tantissime persone, quasi anche in maniera inaspettata per certi versi, mi ricordo. Tu tra l'altro avevi forse un problema alla gamba, mi sembra, mi ricordo questo evento così, però suonassi il pianoforte, diciamo, è una cosa molto bella, sì, 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 me lo ricordo così, è stato il primo incontro anche mio, ecco. Io, allora, prima appunto di entrare nel vivo della carta, magari facendo, prendendo qualche frase e commentandola insieme, se ti va, volevo parlare anche un po' dello stile della carta, perché io sono molto attento allo stile, no? Essendo un danzatore, un artista, cerco anche di guardare il lato estetico, artistico, appunto, poetico delle parole. Allora, so che anche tu sei molto attento a questo modo di parlare, ecco, anche adesso citando questo evento con Marco, l'ascolto è una cosa fondamentale. Per poter, appunto, parlare bisogna anche saper ascoltare, no? Tante volte l'hai detto anche tu nelle tue lezioni. Allora, ti chiedo, qual è la, secondo te, la fatica maggiore che fanno le persone nell'approcciarsi alle parole e soprattutto a questo tipo di parole, che sono parole sintetiche che cercano di riassumere dei concetti e quindi in qualche modo anche di essere semplici nell'arrivare come comunicazione? Sì, beh, io credo che queste parole sono semplici per chi ha già un minimo di idea di che cosa parliamo, perché la maggioranza della gente purtroppo oggi ha un livello culturale talmente basso che, quindi, allora, questo è un testo che è poetico, è, come è ovvio, perché viene da voi, e da Marco non può che essere così, è musica, come se prendi un brano di Bach, cosa puoi pensare? Che non sia armonico? È ovvio che lo è, perché qualunque cosa scriva lo è. Io ho da dire solo però una cosa, che questo come introduzione va benissimo, poi però io vedrei anche poi una specificazione che bisognerebbe fare, perché le persone, a mio avviso, non capiscono, non ce la fanno. Ho visto tante persone che, leggendola, hanno detto, sì, avremo bisogno poi di aspetti concreti, il che viene dopo e quindi va fatto. Non so se siete d'accordo, credo che anche voi sarete. Certo, certo. Infatti noi stiamo facendo appunto questo tour, come sai, in tutte le città, speriamo di coprire tutto il territorio nazionale, proprio per spiegare anche passo passo quali sono stati anche tutti i moventi di questa poi iniziativa. Però è vero, c'è questa fatica anche a volte di guardare, di leggere la complessità nella semplicità. Questo è anche il nostro modo di comunicare, cioè una comunicazione che noi chiamiamo semplice di secondo grado, no? Cioè nel senso che prima bisogna essere, diciamo, anche un po' predisposti, come dicevi tu, però anche, ecco, poi la comunicazione non può essere troppo astrusa, troppo complessa, perché altrimenti si perde anche la bellezza. Scusa, vorrei dirti una cosa, proprio su questa linea. Dunque, io quando ho letto la carta, ho visto, beh, questo è un bel testo, però immagino che la lettura, senza solo così una persona non legge, ma quando ho visto la vostra presentazione, ho detto, accidenti! E come per, ho visto come la differenza tra il libretto, non so, delle nozze di Figaro, non so, di quello, e poi vedere l'opera. Cioè, lì c'è, avete fatto un lavoro talmente profondo, incredibile, in cui Marco era il direttore orchestra, il compositore fondamentale, ma poi tutti voi, tutti allineatissimi, quindi si vedeva una squadra, e questo credo che abbia, infatti credo che abbiate subito un enorme successo, sui presenti, ma chiunque abbia visto quei video lì. E' un evento rarissimo. Ora, bisogna anche dire che è un evento epocale. Quando mai c'è stata una proposta simile? Quindi, un fatto nuovo, di cui io sono stato felicissimo, perché voi finalmente entriate un po' più allo scoperto, entriate a incidere anche sulla realtà più, insomma, del quotidiano. Ci sono persone che vengono e non stanno facendo il corso, ma vengono attratte da un movimento proprio che dentro le persone c'è già, come voi dite, non è qualcosa che, ascoltando profondamente noi stessi, quando entriamo all'interno, ce l'hanno tutte le persone questa richiesta interiore, e finalmente gli si è data voce, e quindi per me è stato bellissimo. Siamo molto contenti di questa cosa ed effettivamente sono parole che riscontriamo e che continuano a risuonare anche negli eventi che stiamo facendo. Abbiamo fatto Roma, poi Torino, adesso andremo anche a Milano, e quindi, insomma, è vero, è vero, c'è questa cosa qui e siamo molto felici di dare un contributo poi, perché poi questo è il nostro atteggiamento, è sempre così, dare un piccolo contributo all'interno di questa vasta galassia che è anche fatta di persone che magari sono molto svegli e contestano, però c'è bisogno appunto forse anche di un lavoro interiore maggiore per comprendere qual è la gravità di questo tempo in cui noi siamo immersi. Posso scusare una cosa? Solo ieri sera, perché io spesso giro su YouTube, vado a vedere cosa c'è, Alla fine poi mi ritrovo che mi vado quasi sempre a vedere un video di Marco e ieri mi sono andato a vedere, perché dopo aver visto altre cose che trovo superficiali, leggere, inutili, ormai noiose, perché vedo sempre le stesse cose in una modalità che non potrà produrre nessun effetto, ieri mi sono rivisto un video del 2013, fatto in un centro yoga, dove Marco nel giro di cinque minuti ha detto le cose essenziali che non vengono dette mai. Cioè che cosa possiamo fare? Un cambiamento nel mondo esterno rimanendo quelli di prima? Ma è assurdo. Ecco, questa cosa però non è passata mai da nessuna parte, quindi praticamente voi siete gli unici insieme a noi a portare avanti questo progetto, che è l'unico che può funzionare. Io entrerei appunto nella Carta della Nuova Umanità segnando una frase, mi sono segnato una frase da cui possiamo partire, proprio per restare anche nel tema di oggi, nell'attualità. Una frase è questa, che parla della guerra, no? E dice Partirei da queste tre frasi, come dici tu, molto sintetiche, molto efficaci però, e ti chiederei il sistema della guerra è agli sgoccioli, ma molti dicono, direbbero, ma no, non è mai così potente come è adesso, visto che c'è una guerra in atto che potrebbe coinvolgerci anche in maniera molto più potente. Come mai diciamo questo secondo te? Ma perché è chiaro che non è uno sguardo superficiale, superficialmente vediamo che la guerra non è mai stata più estesa di adesso, e poi mi sembra che meglio del vostro spettacolo che fate in cui chiarite molto bene che il sistema della guerra è la sanità, il sistema della guerra è la scuola, il sistema della guerra è il lavoro, il modo con cui trattiamo i giovani, quindi fate vedere un sistema della guerra che è sotto la superficie, che è qualcosa che le persone normalmente non vedono, cioè quando si parla di guerra la gente crede alla guerra militare, quella è la minima parte, l'ultima, quella che si vede, ma la guerra c'è nelle famiglie, c'è tra le persone, all'interno delle persone, quindi questo messaggio a mio avviso è di una chiarezza estrema e chiaro richiede uditori aperti, se no non capiscono di cosa si parla, ovviamente che sia gli sgoccioli nel senso che non può più andare avanti così, cioè questo è, siamo un punto terminale, o cambiamo o ci estinguiamo, e quindi comprendere che non si può andare avanti così porta le persone che lo comprendono a fondo a mobilitare tutte le loro energie per impegnarsi a cambiare questo mondo, ma per cambiare questo mondo devono partire a cambiare il mondo interno, questo è il messaggio fondamentale, e quindi mi sembra una frase azzecatissima, insomma. Agli sgoccioli quindi è non soltanto il fatto che magari compaia più visibilmente anche una guerra come quella militare, però è agli sgoccioli nel senso che non è più sostenibile. No, non si può più andare avanti così, non possiamo andare, la sofferenza che degli esseri umani ha raggiunto un livello di estensione e di profondità di sofferenza come mai stato raggiunto nella storia, anche nei momenti più bui. Però è agli... Sì, come sostenibilità, certo. Come sostenibilità, appunto, anche perché banalmente, anche da un punto di vista materiale, se dovesse scoppiare una guerra per come sono messi oggi gli armamenti, noi finiremmo, diciamo... Sì, è finita. Ciao, buonanotte, quindi meglio accorgersene anche, anche soltanto dal punto di vista materiale, ecco, poi c'è anche il livello spirituale che non guasta, ecco. Però effettivamente è vero che la comprensione di questa situazione diciamo che da una parte è molto facile perché è visibile così alla luce del sole, dall'altra però invece è molto oscurata da un sistema che appunto è un sistema della menzogna che nasconde questo tipo di discorso. E qui, nella seconda parte del testo, parla proprio della nuova umanità che è in noi, perché è questa nuova umanità che forse riesce a guardare con quello sguardo le cose per come sono, cioè per come si rivelano. Tante volte noi abbiamo detto che questo è un tempo apocalittico, nel senso che è un tempo di rivelazioni, però per chi? Per chi ha coscienza di guardare queste cose che si rivelano alla luce? Allora quest'altra frase dice così, la nostra nuova umanità insorge e proclama noi non siamo come voi vorreste che fossimo, noi siamo un mistero e una ricerca eterna di libertà, di giustizia e di pace. E questa è la dichiarazione di che cos'è un essere umano, cioè dichiarazione che però contraddice con tutto quello che viene insegnato nelle scuole, nelle università, nelle scienze, nelle false scienze di oggi, perché quella è una verità eterna. Ecco, però mai come oggi, in epoca di totale materialismo, di riduzionismo, quindi, come dicevo, questo è un testo all'inizio elitario, cioè rivolto non a tantissimi, perché la maggioranza della gente non capisce niente di queste cose. Proprio per come avete detto voi, il sistema della guerra, in primo luogo, è la guerra dell'informazione, cioè la fondamentale guerra oggi si fa con l'informazione, perché attraverso l'informazione puoi far credere quello che vuoi, quindi puoi far credere che il tuo nemico è che sei tu invaso, mentre magari sei tu che invadi. E questo è il sistema mediatico, essendo posseduto dei grandi potentati economici, non c'è da stupirsi che costituisca una continua menzogna. E se non mentisse e si rivelasse per quello che è, ovviamente questo sistema crollerebbe, perché se le persone sapessero come funziona banalmente la politica come in Italia e negli altri paesi, sia il piloto automatico, che la democrazia è una farsa, che non esiste proprio più niente che ha a che fare con qualcosa, che ha a che fare con le decisioni, ma anche le persone, cosa vuoi che decide una persona che non ha sviluppato coscienza, è dominato da forze di cui non sa nulla. Quindi, come dite voi, sono d'accordissimo, il lavoro che noi facciamo è da pionieri, ma è entusiasmante, ci dà forza, non so tu, ma io credo che tu ti alzi al mattino e si prendono di carica, di entusiasmo come... Non è solo perché sei giovane, perché se sei uno giovane, però c'ha le idee comuni, vede un mondo schifoso, invece tu stai vedendo il nuovo mondo, lo stai già vedendo, lo vivi già, cioè tu la nuova umanità e voi, la vivete tutti i giorni, è una realtà. Sì, è una luce di consapevolezza che in qualche modo ti dà anche la forza, il coraggio di contestare questo sistema, perché alla fine è questo che bisogna, secondo noi, anche riattivare, per questo parliamo spesso di rivoluzione, non perché siamo bellici, ma perché pensiamo proprio che appunto la persona che si rende conto che siamo dentro una matrix, quello del libro che dicevi, non può far altro che uscirne, diciamo volerne uscire, e quindi questo ti dà coraggio, forza. Assolutamente, sì. Infatti noi diciamo qui, in quest'altra frase del testo, che vorrei che tu commentassi ancora, verso la fine di questa nostra conversazione, poi probabilmente ci saranno altre occasioni, speriamo di incontro anche dal vivo, magari verrò in presenza molto volentieri. Noi diciamo così, verso la conclusione di questa carta, diciamo, iniziamo quasi in sordina, che è anche un'espressione popolare, carina, insomma. Iniziamo quasi in sordina, pacifica mente, come amiamo fare noi, con il trattino, è allegra mente, una rivoluzione culturale, che vuole farsi politica. Qui allora la domanda è semplice, cosa significa fare politica, partendo da questa consapevolezza? E beh, allora, intanto, per forza devi far sordina, in sordina, perché, che senso ha mettersi a proclamare cose che nessuno capisce? fai a figura lo scemo. Cioè, facciamo in sordina, perché abbiamo la coscienza che, per risvegliare le persone, ci vuole il tempo necessario, e la disponibilità anche loro, necessaria. Ma, questa cosa, per contagio, avverrà sempre più velocemente. Credo che questo dipenderà da quanto noi siamo in grado di fare comunità. c'è una delle cose che il neoliberismo, questo sistema, chiamiamolo come ci pare, ha fatto fondamentalmente di distruggere le comunità. Distruggere le comunità, la famiglia, ma anche le comunità più ampie. E poi anche la comunità interiore. Cos'è una comunità? Una comunità è un luogo dove si genera l'integrità. Cioè, siamo una comunità, se noi non ci litighiamo continuamente, anzi, tentiamo sempre l'accordo. L'accordo per trovare un punto dove le nostre diverse prospettive trovano una soluzione unitaria. Così hanno fatto i nostri costituenti e hanno creato la carta costituzionale. Noi non siamo più in grado di farlo perché il campo dismorfico di cattive forme che si è generato è del tutto contrario. È come se noi nuotassimo in un fiume in salita verso l'assolgente. Per cui ogni nuotata che facciamo se ci fermiamo rischiamo di tornare indietro. Più siamo, più siamo collegati tra noi a livelli più profondi e ci conosciamo di più e quindi più c'è l'amore, circola l'amore, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato, più la comunità diventa forte, più diventa coerente, forza, coerenza, giustizia e allora questa frequenza, questa emanazione si espande e quindi diventa un magnete che attira altre persone. Questo è il nostro modo, il nostro di procedere e mi sembra che voi ci state riuscendo parecchio bene perché state ogni anno allargando il cerchio. Le persone che vi frequentano sono entusiaste, sono contenti. Penso che i nostri due mondi sono un po' diversi darsi pace e unialef e sì perché perché Marco è un filosofo e un poeta e io parto più come prima come giurista ma poi come terapeuta quindi l'impronta terapeutica a me è sempre forte e quindi mi ha portato ad esplorare le terapie che fossero coerenti con questo lavoro e qui ti posso dare una buona notizia perché in combinazione in quest'ultimo weekend siamo riusciti a fare un passaggio molto potente in un gruppo di 12 persone cui alla fine tutti erano alla fine dopo mezz'ora 35 minuti di lavoro che si può chiamare meditazione guidata ma era fatta su precise esperienze che ho fatto in quest'ultimo anno queste persone sono riuscite a raggiungere un livello di coerenza interna di gioia di felicità incontenibile e di amore reciproco e questo ha prodotto immediati risultati nel senso che questa cosa si è sparsa l'hanno sentita persone a distanza poi questo noi questo materiale poi te lo spedirò lo mando sto già preparando anche il materiale per Marco che noi vogliamo scambiare tutto quello che di meglio abbiamo certe cose noi abbiamo trovate possono essere utili anche a voi e ve le passiamo ecco per esempio il passo successivo sarebbe che noi noi e voi diventassimo una sorta di comunità cioè non che noi ci sciogliamo dentro di voi voi sciogliete ma creiamo una struttura dentro cui le cose che noi facciamo trovano un allineamento e quindi una maggior forza cioè noi abbiamo pubblici anche in parti diversi ma se parliamo insieme abbiamo più forza perché qualche punto dovremmo accordarlo meglio noi siamo ben felici di accordarci su tutto perché io seguo Marco cercando di fare il più possibile tenendo conto di tutto quello che dice da lui apprende in continuazione quindi per noi non dovrebbe essere molto difficile cercare di sentire quindi per esempio l'incontro che faremo a Sacrofano è l'incontro in cui vi invitiamo tutti quelli che possono venire sperando che possa venire anche Marco in modo che sia un evento come facevamo un tempo che uniamo le nostre forze in Asti Saulo ecco però ci sono delle altre cose che in quella frase forse mi volevi chiedere forse lo saltare io no penso che tu abbia risposto effettivamente c'è da parte diciamo di questa politica io ti ho sollecitato su questo termine però tu giustamente hai risposto anche partendo dall'interiorità dal lavoro interiore dal fatto che comunque la terapia nel senso più ampio di questo termine cioè trasformare le persone noi noi stessi in primis è il primo modo di fare politica oggi nel 2023 se no altrimenti siamo veramente di nuovo dentro una ideologia che si ripercuote nella società e non fa altro che mascherare la verità è una maschera esatto però anche per chiudere per chiudere e per aprire per aprire nuovamente per il futuro quell'ultime cose che hai detto si accordano bene anche con lo spirito che appunto conclude la carta della nuova umanità perché è uno spirito di festa se ti ricorderai la carta della nuova umanità appunto finisce con questa con questa frase di appunto rallegrarci per questo e consolarci e festeggiare insieme la nuova età il giorno festoso che viene quindi noi siamo proprio diciamo aperti a questa risonanza festiva questa a questo godere anche della vita che ci stanno in qualche modo anche un po' togliendo giorno per giorno con questa con questo flebo come dice Marco di iniezioni costanti di insensatezza di appunto perdita anche della gioia proprio della gioia di vivere e forse ecco un modo per stare insieme nella comunità che tu dicevi è proprio questo fare delle feste trovarsi insieme e godere anche di quel divertimento quindi speriamo insieme di creare anche delle modalità per cui le persone possano trovarsi e festeggiare la nuova umanità appunto che c'è in ognuno di noi benissimo va benissimo allora alla prossima grazie Mauro grazie a tutti grazie per il tuo lavoro e grazie a presto ciao grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti